Sono convinto che insieme ce la faremo, che il legame che ci tiene uniti sarà più forte delle tensioni e delle difficoltà, ma so anche che la condizione per che questo avvenga sarà legata al fatto che ciascuno, partecipando alla ricostruzione che ci attende, ricerchi come unico scopo il perseguimento del bene della Repubblica come bene di tutti, nessuno escluso. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questo 74esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, una Repubblica ferita ma non piegata dalla emergenza Covid-19. Stamani si è svolta a Trapani la consueta celebrazione presso il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, una celebrazione sobria che si è svolta con modalità diverse rispetto al passato, in osservanza delle misure volte al contenimento del contagio. Presente una rappresentanza ristretta delle autorità della provincia e senza lo schieramento militare. Nel corso della cerimonia è stata data lettura integrale del messaggio del Presidente della Repubblica. La partecipazione a questo evento della Festa della Repubblica in misura, per la verità, un po' troppo numerosa rispetto ai dettati che ci erano stati imposti, comunque fa piacere perché significa che si sente, il cittadino vive questa realtà. Magari la vive in questo momento ancora di più e credo che il senso del messaggio del Capo dello Stato sia stato proprio quello di mettere da parte non solo preoccupazione ma ogni disprezzo di se stessi e all'unisono cominciare a riprenderci. La festa accade in un momento in cui, grazie a Dio, sembra che la curva abbia un momento di stasi. Tutti quanti, anche gli esperti, i virologi, assolutamente non dicono di abbassare la guardia. Tuttavia però il 2 giugno oggi coincide con un moderato ottimismo. Poi su questo nostro territorio siamo stati particolarmente bravi, sono stati bravi i sindaci, sono stati bravi i cittadini, sono stati e sono pazienti i commercianti che, come anche il Capo dello Stato ha ricordato, sono tra coloro i quali da questa vicenda hanno avuto il danno maggiore. Però stiamo cercando appunto di far sì che possano, possiamo riprendere sempre con prudenza, non abbassando la guardia e cercando di venire fuori da questa situazione. Dobbiamo cercare di vincere questo nemico subdolo e per molti versi, per certi versi invisibile. C'è un altro nemico purtroppo che secondo me ancora non siamo riusciti a sconfiggere e forse questa pandemia l'ho messa ancora più in evidenza. Vedo le trasmissioni nazionali e si continua a parlare di quelli del nord, quelli del centro, voi del sud, forse non abbiamo imparato molto. Infatti, proprio questo dice il Capo dello Stato, mettiamo da parte queste divisioni che hanno già funestato l'Italia secoli e secoli fa. Abbiamo fatto tanto per ricondurre a unità un paese che io non esito a definire il paese più bello del mondo, ma non per campalinismo, ma perché oggettivamente ce lo riconoscono tutti, magari anche con una punta di invidia. E poi dopo andiamo a creare problemi noi tra nord, sud, eccetera. Anche se, voglio dire, le giustificazioni a questo tipo di cose sono state date, ma resta sempre il fatto che se il governo decide di riaprire le frontiere, facciamolo. Insomma, perché l'Italia è una, non è che dobbiamo spenderci in queste cose che poi hanno sempre un fine, guardi, anche razziale, perché la cosa più brutta è quando appunto la si mette sotto il profilo del razzismo, che non è solo quello che abbiamo nei confronti di paesi extracomunitari, ma anche quello tra italiani e italiani. Quindi questo il Capo dello Stato assolutamente ha detto che non ci deve essere. La coesione è la nota predominante e ricorrente del messaggio che ha voluto indirizzare a tutta la nazione.